Prima uscita pubblica ufficiale per il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte insieme alla compagna Olivia Paladino. I due a Napoli hanno preso un caffè nel noto bar Gambrinus di piazza Trieste Trento e poi si sono recati insieme al Teatro San Carlo per assistere allo spettacolo di beneficenza Una Notte di Cuore, organizzato dalla Fondazione Achille Scudieri per finanziare il progetto Bambini Coraggiosi dell'Associazione Ospedali Pediatrici Italiani. I fondi raccolti andranno a promuovere l'umanizzazione degli ambienti di cura dedicati ai più piccoli. Il progetto vede come capofila l'azienda ospedaliera Santo Bono Pausili Pondi Napoli. Oltre alla cura della malattia si pone attenzione alla sfera psicologica dei piccoli pazienti e delle loro famiglie costretti a lunghi tempi di degenza lontano da casa e da scuola. Il galà presentato dall'attrice partenopea Serena Autieri ha visto la partecipazione straordinaria di Claudio Baioni insieme a Conte il sindaco di Napoli Luigi De Magistris e il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca. Visibilmente contento il premier che promuove la formula pubblico privato per il sostegno al welfare. L'emozione è veramente tantissima soprattutto perché per questo progetto mi piace tanto questa formula mi ha molto colpito e la ragione per cui sono qui. Bambini coraggiosi una serata di beneficenza.